Salve a tutti gli utenti di MondoNapoli. Il posticipo della trentanissima giornata tra Napoli e Inter si è concluso con il risultato di 1 a 1. Al vantaggio iniziale, a quanto fortunoso del Napoli, che è nato da uno spunto di insignia dalla fascia e l'autogol dell'Inter, risponde nel secondo tempo Eriksen. Quindi il risultato finale è stato di 1 a 1. La redazione di MondoNapoli ha stilato le pagelle per quanto riguarda gli azzurri. Allora, partiamo dall'estremo difensore, Alex Meret. Il portiere azzurro non ha colpe sul gol dell'Inter che ha segnato Cristiane Eriksen. È stato comunque molto attento per tutta la gara e si registra soprattutto un'uscita nel primo tempo su Barella e si è dimostrato molto intraprendente e coraggioso. Passiamo alla catena difensiva e iniziamo leggendo da sinistra verso destra con il portoghese Mario Rui. Voto per lui 5 e mezzo. È un po' come lo stesso discorso di Lorenzo sull'altra corsia destra perché spesso e volentieri ha sofferto le cavalcate offensive di Achimi e anche in difesa non ha fatto delle ottime chiusure che nel finale hanno comunque rischiato di far subire il secondo gol al Napoli. Passando alla coppia difensiva, Koulibaly-Manolas per Koulibaly. Voto 6 e mezzo. Sono le partite in cui si esalta. Vice spesso il duello contro un avversario che comunque non è facile come Romelu Lukaku. Voto 7 per Koulibaly-Manolas, il migliore in campo da parte degli azzurri che quando il greco gioca in questa maniera veramente c'è poco da fare per gli avversari. Si registrano ottimi intermedi scivolati che hanno salvato in più occasioni il risultato soprattutto su Achimi nel finale. Sempre molto attento, possiamo dire che è la migliore prestazione stagionale fino ad oggi. Di Lorenzo 5 e mezzo. Stesso voto di Mario Rui. Laterale non è sempre lucido e nel primo tempo soprattutto è andato in difficoltà per quanto concerne le incursioni di Darmian ed è stato anche molto impreciso nelle azioni offensive. Passiamo al centrocampo con la coppia Demme-Fabia Ruiz. Entrambi 6 e mezzo. Demme è il polmone del Napoli. Autore di una prestazione solida in mezzo al campo dove spesso rincorre gli avversari fino all'ultimo minuto. Fabia Ruiz, lo spagnolo, nel primo tempo è stato uno dei migliori. Sta ritrovando man mano la condizione fisica e si vede da quello che mostra in campo. Sempre propositivo e lucido in fase di impostazione. Passiamo al reparto infensivo. 6 e mezzo anche per il capitano Lorenzo Insigne che ci mette sempre lo zampino nelle azioni di gol del Napoli. Quindi oggi il tiro che, diciamo, ieri ha causato lui, ha causato l'hotto gol, è stato comunque sempre da una sua invenzione. Si registrano ottimi interventi anche in fase difensiva. Nel primo tempo è stato spesso protagonista soprattutto in occasione del gol. Voto 5 e mezzo per Piotr Zielinski. Il polacco non è stato molto incisivo durante il match. È spesso impreciso. Quindi non è inciso come spesso lui sa fare, soprattutto in questa stagione. Quindi da lui è un talento che ci si aspetta sempre di più e ha tutto comunque per emergere in questi match. Voto 6 per Matteo Politano. Il primo tempo si impegna molto nella fase difensiva e nella fase non possesso aiuta comunque anche di Lorenzo a contenere gli esterni. Nel secondo tempo la sua prestazione cresce notevolmente, infatti colpisce anche la traversa sfiorando il gol dell'ex. Nel complesso è una buona prestazione. Victor Ozyman voto 5. Poco ha sfruttato dai compagni per le sue qualità in profondità. Nelle ultime gare era cresciuto molto anche giocando spalle alla porta. Oggi invece ha sofferto molto il muro dei difensori azzurri. Per quanto riguarda i subentrati, registriamo il 6 di Trismertens che comunque entra bene in gara e si dimostra sempre pronto ad aiutare i compagni. Per quanto riguarda Elmas, Bakayoko e Sai, la redazione di Mondo Napoli ha preferito non dare voto anche perché non hanno mostrato, comunque non hanno reso né nel bene né nel male, quindi non hanno influito nei confronti della partita e del risultato stesso. Per Inno Gattuso, sufficienza, voto 6. Inoltre consigliamo ai nostri studenti di Mondo Napoli di restare connessi per continuare a seguire i prossimi episodi delle pagelle in occasione di Napoli-Lazio di giovedì. Quindi vi ricordiamo di seguirci sui profili Facebook e Instagram con il nome di Mondo Napoli Page, il canale YouTube con il nome di Mondo Napoli Channel e la chat Telegram sempre attiva Mondo Napoli Chat. Restate connessi e non perdetevi le prossime pagelle in occasione di Napoli-Lazio.